Buongiorno, mi chiamo Franco, sono il direttore di questa azienda vivaistica forestale, siamo a Soveria Mannelli in provincia di Catanzaro, produciamo circa 2 milioni di piantine forestali all'anno, facciamo raccolte di sementi certificate nelle varie regioni più che altro del meridione, però anche in altre regioni ci facciamo mandare dei semi delle loro regioni se predileggono materiale vivaistico geneticamente delle loro zone. Siamo in un bacino idrograficamente perfetto per questo tipo di culture, perché non sono culture di mezza collina, abbiamo anche parte del vivaio con culture protette per quanto riguarda le gerature per piante di collina più bassa. Lo spirito che oggi ho voluto portare questi amici e comunque professionisti del settore è quello di portarli qua, presentare il nuovo catalogo poteva essere una cosa scontata, glielo potevo portare a casa, potevo fare quello che volevo, però ho voluto renderlo importante e farli spostare da dove loro operano e portarli nella realtà vivaistica, perché comunque gli operatori del settore si devono comunque rendere conto di tutto il lavoro che facciamo, perché comunque è una realtà importante, sono prodotti di nicchia, sicuramente sono prodotti che vanno a finire negli imboschimenti, nella salvaguardia ambientale, nelle scarpate, nell'ingegneria naturalistica, quindi sono piantine che servono anche per la biodiversità, servono per dare ossigeno alle nuove generazioni, cioè a salvaguardare le piene da terra, almeno nel nostro piccolo cerchiamo di fare questo il più possibile. Grazie. 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 Grazie.